Ecco, parlando di valori, insomma un lunedì che l'hanno fatto un po' arrabbiare, dopo una domenica con tanti polemici. Sì. Ormai purtroppo capita spesso. Capita spesso, capita spesso perché da una parte lo sport, il calcio, che è un luogo di confronto e di rispetto, quindi c'è anche il contrasto, la tradizione del tifo, una tifoseria significativa alle spalle delle società, da una parte naturalmente il calcio dà tante emozioni. C'è anche il momento in cui le emozioni vanno al di là di un self-control per tanti, però bisogna tener conto che poi siamo comunque in una dimensione, come ricordavo prima, valoriale, quindi bisogna riuscire a contemperare la passione e l'emozione che dà l'evento calcistico con una logica di comunicazione positiva. Proprio perché ceto dirigente, giocatori, tecnici, arbitri sono dei testimoniali importanti, occorre che tutti diano il buon esempio perché questo buon esempio deve essere poi eseguito dalla tifoseria e dall'opinione pubblica. Ed è un peccato perché questo è un campionato apertissimo su tutti gli ambiti, sia per quanto riguarda la salvezza che per la vetta. Potrebbe essere un campionato davvero combattuto sul campo? Sì, è combattuto sul campo, è combattuto anche fuori del campo, nel senso che come sempre un po' troppe polemiche, noi da questo punto di vista ci distinguiamo, dobbiamo tener conto naturalmente che però a livello internazionale, soprattutto quello che conta è la capacità competitiva, la valorizzazione dei vivai, l'assenza di ogni forma di violenza dagli stadi, una dimensione di equilibrio economico sul versante costi ricavi e bisogna cercare di tener conto che ci sono delle priorità. Poi naturalmente c'è il calcio e anche faziosità ed essendo faziosità nel calcio c'è anche una dimensione di appartenenza che alcune volte vede al di là di quelle che sono razionalmente le situazioni che avvengono sul campo e fuori del campo. Parlando di stadi, fermo restando che ci sono tante altre priorità per le amministrazioni comunali, non parlo di Parma, parlo di tutte le amministrazioni comunali d'Italia, bisogna fare uno sforzo perché questi stadi siano stadi all'altezza di quella che è la dimensione europea. Noi per esempio in Emilia Romagna abbiamo soltanto il Braglia di Modena che può ospitare i partiti ufficiali, che sia Bologna, sia Parma, sia Cesena possiamo avere soltanto delle partite amichevoli perché ovviamente gli standard crescono continuamente in termini qualitativi e non sempre le amministrazioni insieme con i club riescono a reggere il ritmo di questa necessità di aggiornamento.